ciao a tutti sto provando a realizzare una catena per un escovatore radiocomandato in scala 1 a 16 ho realizzato 102 di questi pezzi 204 di questi partendo da delle piattine di ferro forati e fresati e portati a misura adesso proviamo a comporre il patino per l'escavatore ok ho realizzato uno stampo per per comodità perché per fare tanti pezzi è obbligatorio che vengano tutti uguali specialmente se si tratta di una catena quindi è molto ma molto preciso mettiamo la boccola e adesso infiliamo il perno anteriore perfetto vediamo come ci sia sporco e mettiamo la pinza a scatto che tiene tutto fermo ok adesso diamo una limata qua nell'angolo per essere sicuri che la saldatura attacchi bene perché la maggior parte della saldatura verrà limata la maggior parte della saldatura verrà limata perfetto raffreddiamo un po' perfetto lo stampo lo stampo è anche utile per perché così col calore della saldatura mi tiene i pezzi in posizione e non flettono togliamo la boccola ok mettiamo la temperatura è buona perfetto ma le prossime lavorazioni saranno limare la maggior parte della saldatura e poi piegare l'archetto del patino tipo tipo questo che ho già piegato in modo che possano avvicinarsi e quando è sulla corona e fa questo movimento non rimane il buco fra uno e l'altro come quelli veri ero più comodo a farlo prima la piegatura però non si riusciva a limare bene qua questo è uno già limato si nota appena la saldatura poi con un po' di colore non si vede neanche più e questi sono quelli che ho già fatto questa qui lunga sono 51 pezzi me ne mancano ancora una ventina circa qua ci sono le boccole ogni ogni maglia avrà la sua boccola e poi il suo perno e poi con 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 il che rimarrà all'interno questo questo è il suo pignone ho realizzato anche questo in tre pezzi ho fatto il coperchio che si può togliere per per mettere il bullone che mi tiene il perno centrale dotato di chiavetta e poi la corona 24 denti ok torno al lavoro ciao ciao ciao